Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo è un video un po' diverso dal solito. Solitamente non faccio questi tipi di video e nemmeno mi piace farli. Però sono arrivata a un punto in cui voglio parlarvene per cercare di farvi capire e farvi vedere quanta cattiveria c'è nel mondo dei social. Ho deciso quindi, come avete letto, di farvi leggere dei commenti che mi hanno fatto sotto dei miei video, sotto dei Reels e dei TikTok. Ho deciso di portarvi dei commenti non tanto tosti perché ne ho voluto evitare e sinceramente li ho anche cancellati dai vari video. Questo perché mi dava fastidio che ci fossero dei commenti così stupidi e maligni sotto di essi. Perciò vi ho portato dei commenti inerenti a come ero vestita, sì. Perché, come voi sapete, e per chi mi segue già lo sa, e per chi non mi segue comunque lo spiego, Io lavoro nel mondo del fitness, sono una personal trainer e perciò faccio contenuti sui social, sia su Instagram che su TikTok, dove spiego le varie modalità di allenamento, alimentazione, eccetera, eccetera. E solitamente i miei video li faccio in palestra. Questo perché, essendo una personal trainer, è normale che la location dei miei video sia la palestra. E come va vestita una in palestra? Non di certo in giacca e cravatta o con un vestito lungo. Una persona o una ragazza, che comunque fa fitness, va vestita in palestra in leggings e in top, o comunque calottiera, eccetera, eccetera. Visto che dobbiamo anche, non prendiamoci in giro, mostrare il nostro corpo, perché è proprio il nostro corpo la vetrina del nostro lavoro. Perciò è normalissimo che vada vestita in questa maniera. E ho deciso di prendervi solo una parte dei commenti inerenti al mio seno. Perché voi mi dite devo portarvi dei commenti inerenti al mio seno? Perché il mio seno è sempre stata una parte del mio corpo che non ho accettato. Da quando ero piccola ho sempre avuto il seno poco prosperoso, quindi abbastanza piccolo. Il massimo che ho raggiunto è stato una terza, quando era abbastanza in carne. Però come voi sapete, con la palestra, quindi la diminuzione della massa grassa, è normale che una donna vada a perdere un po' di seno. C'è chi più, c'è chi meno. Io non sono stata così tanto fortunata e quindi ne ho perso abbastanza. Adesso diciamo che ho una prima molto scarsa. E non è stato facile per me andare in palestra ed usare anche top senza push-up. Io da quando ero all'elementari dovevo usare i primi leggi seni, mettevo i push-up perché tutte le compagne della mia classe, sia all'elementari che alle medie che alle superiori, avevano un bel seno. Io invece purtroppo ho sempre avuto il seno piccolo e di una forma che non mi piace. Ok, magari è anche una cosa solo mia, però ci sta a non avere una parte del corpo che non piace. E infatti il mio più grande sogno, spero di riuscire ad arrivarci, è quello di rifarmelo in futuro. Che non c'è niente di male. Vedo anche ragazze che se lo rifanno ricevano commenti instupidi sul fatto che non andrebbe rifatto perché uno si deve accettare così com'è. Ma se una persona non si piace o non gli piace una parte del suo corpo e siamo arrivati nel 2023 ad avere grandi chirurghi estetici che possono fare dei miracoli, perché non farlo? Torniamo al discorso di prima. Quindi io ho sempre usato dei push-up. Questo è perché mi vergogno ancora ora del mio seno e vi giuro che mi vergogno anche ad andare al mare e a mostrarlo in costume. Mi vergogno anche a mostrarmi nuda davanti al mio ragazzo. Perciò sono commenti che mi hanno colpita. Non è che mi sono messa a piangere o cose del genere, figuriamoci, non lo farei mai. Però magari sono commenti che mi fanno pensare, ripensare, ripensare a tutto ciò che ho passato. E che ora piano piano sto riuscendo a risolvere questa cosa che ho dentro la mia testa, perché grazie alla palestra sto acquisendo un sacco di sicurezza in me stessa. Quindi grazie ad essa io da poco ho iniziato a mettermi dei top senza push-up. Naturalmente non possono mancare quindi commenti stupidi sotto il mio video sul mio seno, perciò ho deciso di farvene leggere qualche d'uno. Tempo fa ho messo un rilz dove facevo vedere la misura del mio bicipite, un rilz carino, divertente, dove una persona ci poteva ridere sopra, ma così non è stato. Questo mi scrive, questo Fabio Mangiarotti, io lascio anche nome e cognome perché è giusto metterci la faccia in questi casi. Provo a misurare le tette. Caro Fabio, io me ne misuro le tette, però te misurati anche il cervello, chi mi sa che ce l'hai piccolo così. Questo Francesco mi scrive, tette, due centimetri dai. Questo Enzo poi mi scrive, vabbè raga non c'è nessun problema, ho più seno io di lei. E poi ci sono altri commenti non erenti al mio seno dove mi dicano mignotta. Questo Daniele mi scrive, più che altro andarci più nuda e vestita e pretendere che i presenti non ti fissino il culo. Il problema non è il vestire di rosa, ma quando sei messo a pecora. Il fatto che una ragazza vada in palestra con i leggings e il top non vuol dire che vuole farsi vedere il culo dai presenti. Visto che quello è l'outfit comunque da palestra, che renda anche una ragazza figa perché magari vuole andare in palestra, vuole vestirsi bene perché deve andarci vestita bardata con il burca addosso, perché deve aver paura che le persone facciano commenti di merda, soprattutto magari anche da te. Ma non ci pensiamo nemmeno. Una ragazza va vestita in top e leggings perché magari si sente a suo agio con il proprio corpo ed è lì per cambiare, non per farsi vedere il culo da te o dalla gente che sta intorno. Perché guarda caso la gente più intelligente che c'è in palestra, che è quella che si è serena davvero, non guarda il culo di quella ragazzina o il mio culo. Ma chi è che guarda di culo in palestra? Quell'80% delle persone che si scrivano soltanto per questo motivo qui, per cercare di abbordare e adocchiare ragazzini che si stanno allenando e facendosi i cavoli sua. Vai in palestra e ti metti a pecora. Ci sono esercizi in palestra dove assumo una posizione supina, quali stacchi a gambe tiese, poi c'è il pull through e tanti altri a destra mi vengono in mente. Ed è brutto sentirsi dire una cosa del genere. E fidatevi che mi sono arrivati anche diretti i commenti, nel senso non in faccia ma mentre mi alleno lasciamo perdere quanti commenti sento da... Naturalmente tutte persone che sono lì e non fare niente, che stanno 5-6 ore in palestra e ve lo giuro a non fare niente, a stare sul telefonino e a guardare, a sbavare mentre guardano le ragazzine che si allenano. Quindi una ragazza dovrebbe aver timore di fare degli stacchi in palestra perché magari può ricevere commenti del genere. Questo è un video che volevo fare per sfogarmi insieme a voi e per farvi vedere quanta cattiveria c'è in giro al giorno d'oggi. Quante persone frustrate ci sono? Però purtroppo queste persone qua non sanno che stanno facendo del male a tantissime persone, che cercano di emergere sui social e che magari smettono di farlo perché ricevono questi commenti qua. Mi rivolgo a tutte quelle persone che magari ci provano sui social e che magari hanno anche paura di iniziare a lavorare sui social per questo motivo qua, perché ne sento veramente tanti. Io essendo una personal trainer, seguendo anche i clienti, donne soprattutto, sai quante ragazzine mi vengono lì e mi dicono Asia io vorrei far come te i video, mi piacerebbe un sacco? Ma io ho paura della gente. Ho paura di quel che mi verrà commentato sotto, perché non riesco a reggere dei commenti del genere. Quindi voi vi divertite così, infierendo dolore e anche infelicità, la vostra infelicità, alle persone che magari cercano di crearsi un futuro. Invidia? Frustrazione personale? Problemi vostri? Non lo so, può essere quello che vi pare. Ma così, fidatevi di me, non andate da nessuna parte. Piccoli così e piccoli rimarrete. Vorrei provare a entrarvi nella vostra testa mentre scrivete quel commento e a capire se i vostri problemi vengono risolti dopo averlo scritto, se poi vi sentite meglio. Io penso, e anche se mi direte il contrario non ci credo, che vi sentite più merda di prima, perché questo siete, e che siete infelici il doppio di prima. Perché magari la persona a cui scrivete il commento sotto, mignotta o cose del genere, ha un futuro, è conosciuta sui social, è conosciuta in Italia, sta bene, vive una bella vita e voi comunque rimanete sempre lì nella vostra umile vita, infelice, non andate da nessuna parte. Perché invece di scrivere quei commenti lì, non scrivete un bel commento? Un bel commento su quello che vedete, invece di insultare. Io penso che vi sentite meglio, credetemi, funziona. Magari anche quella persona lì vi risponde pure. E voi magari siete anche contenti che lei vi risponda, perché voi haters siete, perché così vi chiamate, siete fan numero uno di queste persone qua. Siete più fan dei fan. Perché voi non vedete l'ora che esca un video di quella persona lì pronti per insultarla. Non aspettate altro, bramate. E comunque concludiamo qua questo video, perché si sta facendo lungo. Volevo solo dire alle persone che vogliono iniziare il loro percorso sui social e anche per chi l'ha già iniziato e ci sta male per questi commenti qua, fregatevene e andate avanti. La vita, ogni cosa che farai, che sia buona, che sia cattiva, verrete sempre, sempre insultati. Perché non va bene mai niente. Quindi ragazzi, vestitevi come vi pare, fate quello che volete, iniziate a lavorare sui social se volete farlo e fregatevene. Non pensate ai commenti stupidi, leggeteli e cancellateli. Oppure non leggeteli nemmeno, cancellateli direttamente. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Spero che mettete like e che magari lasciate anche un commento, mi farebbe molto piacere. E iscrivetevi al canale, naturalmente. E noi ci vediamo la prossima volta, ad un prossimo video. Spero molto più felice di questo. Spero molto più felice.